Oggi bellissimo allenamento di rigamo per tetto e torso nelle loro super serie all'anno spazio negli esercizio fuo pietro e l'esercizio per il dorso allenamento anni settanta numero uno nostri minchiate moderne scientificamente dimostrando che in questo allenamento l'allenamento ricorda che stai moderne su peglia non lecca la crema noi ci facciamo un pochettino a vuoto, che te paghi e te trante i primi due esercizi caprici contemporanei a parte inclinata a gradi e quattro serie da 6-7 ripetizioni un super serie a let machine con triangolo non ci faccio serie da 6-7 ripetizioni con pause di due minuti e mezzo seconda ed ultima super serie dell'allenamento di oggi quattro serie da 8 ripetizioni di distensione manubri sinclinata in super 7 a primatore con bilanciere a dire che ho subito quattro serie da 6 ripetizioni e per oggi finiamo Andres è il protettore dei deboli e delle maldacce